Dialogo Come posso aiutarvi? How can I help you? Vorrei acquistare due biglietti per Londra, per favore. I would like to purchase two tickets to Londra, per favore. Quando vuole andare? When do you want to go? Oggi, grazie. Today, per favore. E mi dispiace, ma oggi è tutto esaurito. I am sorry, but today is sold out. E domani? How about tomorrow? Sì, abbiamo biglietti disponibili per domani. Yes, we have tickets available for tomorrow. Salve, il mio nome è Sam. Hello, my name is Sam. Ciao, io sono Kim. Hi, I am Kim. Piacere di conoscerti. Benvenuto a Londra. It is nice to meet you. Welcome to London. Grazie. È un piacere conoscerti anche per me. Thank you. It is nice to meet you, too. Di dove sei? Where are you from? Io sono di Tokyo. Di dove sei? I am from Tokyo. Where are you from? Io sono di New York. I am from New York. La vedova e i suoi due cani. The widow and her two dogs. A Brighton, una località turistica marina sulla costa sud, viveva una vecchia vedova con i suoi due cani. In Brighton, a seaside resort on the south coast, lived an old widow with her two dogs. La vedova era ricchissima e i due cani erano bestie enormi che abbaiavano ogni qualvolta qualcuno si avvicinava alla loro padrona. Quando si ammalò e non pote più badare a se stessa, il dottore le disse di trasferirsi in un hotel dove sarebbe stata curata. When she fell ill and could not look after herself any longer, the doctor told her to move into a hotel where she would be cared for. Il direttore dell'hotel, vedendo che l'anziana donna era molto malata e sapendo che ella non aveva parenti, decise di divenire suo amico. Così che, quando ella sarebbe morta, le avrebbe lasciato il suo denaro. Per farle piacere, il direttore dava da mangiare ai due cani e giocava con loro tutti i giorni. L'anziana donna fu molto grata al direttore perché lei amava moltissimo i suoi cani. Alcuni mesi più tardi l'anziana donna morì e il direttore andò a visitare il suo avvocato per scoprire cosa ella le avesse lasciato nel suo testamento. A few months later the old lady died and the manager went to see her solicitor to find out what she had left him in her will. L'avvocato gli disse che ella aveva lasciato tutti i suoi soldi ad una associazione benefica. The solicitor told him that she had given all her money to a charity. Ma aveva lasciato al direttore ciò che lei amava di più, i suoi due cani. Ma aveva lasciato al direttore ciò che lei amava di più, i suoi due cani. Grazie a tutti.